3, 2, 1, rock and roll con la Nissan Micra di Giuseppe Morelli Signori un applauso per l'organizzatore della Gymcana Bene, sì, ricordiamo che è qui presente insieme a noi l'amico Zizi di Cisterino che ha un'esposizione di automodellismo davvero singolare e particolare intanto Giuseppe Morelli con il numero 130 di Delizia del percorso di gara con la sua Nissan Micra